A soli 16 anni è stato insignito dell'onoreficenza di Alfiere della Repubblica dal capo dello Stato Sergio Mattarella per l'amore e la dedizione nei confronti di suo fratello Damiano affetto da una malattia sconosciuta. Stiamo parlando di Mattia Indorato, un cosiddetto Rare Sibling perché così vengono definiti i fratelli e le sorelle di una persona con una malattia rara. A questi ragazzi è stato dedicato un interessante progetto di Omar, l'Osservatorio Malattie Rare, giunto alla sua seconda edizione. Quest'anno nell'ambito del progetto sono stati realizzati degli incontri in gruppi esperienziali per Sibling a cui ha partecipato anche Mattia e noi abbiamo il piacere di parlare con lui anche per farci raccontare questa esperienza. Allora Mattia, cosa hai provato quando hai ricevuto il titolo di Alfiere della Repubblica dal Presidente? Sicuramente tanta emozione. Io ero conoscente della nomina e della candidatura. Non pensavo di arrivare fino a qui e quindi di essere insignito dell'onoreficenza. che di solito pregna ragazzi che si distinguono nel volontariato, nella scienza, nella cultura, ma che questa volta è stata accolta dal Quirinale, la nomina che ha voluto premiare è qualcosa che va al di là, qualcosa che non ti può insegnare, spiegare o addirittura imparare, che è l'amore. Io ero incondizionato, che è quello che un Sibling ha verso il proprio fratello, sorella, disabile. Sono stato imparito della nomina del Stiere della Repubblica per l'amore e la tradizione con la quale sono sempre preso cura di mio fratello minore, Damiano Cadol, passetto da una malattia rara, malattia genetica che si è scoperta ultimamente e quindi anche per il mio ruolo di Sibling. La nomina è stata conferita a me, però comunque rappresento i tantissimi ragazzi e ragazze che si prendono cura dei loro fratelli o sorelle con disabilità grave. Certo, tu hai partecipato a un progetto molto interessante per Sibling, un progetto di Omar, quindi il progetto dei gruppi esperienziali con ragazzi come te. Ci racconti un po' com'è stata questa esperienza? Sì, partecipare ai gruppi esperienziali sicuramente è stato un onore. Comunque è una scoperta, dico scoperta perché io ancora prima della nomina pensavo di essere solo, come ho detto appunto anche durante i gruppi esperienziali. Pensavo di essere l'unico ad avere un fratello speciale a casa, quindi l'unico a dover affrontare certe situazioni, l'unico ad avere tante responsabilità, a dover essere maturato prima rispetto ai coetanei. Quindi dopo la nomina ho scoperto questa splendida realtà, che è quella di Omar, mi è stato chiesto di partecipare. Io ho accolto veramente con tanta emozione e onore questa richiesta e ho partecipato. Tra l'altro abbiamo fatto tre incontri, tra il primo e il secondo incontro mio fratello è venuto a mancare, è venuto a mancare il 20 giugno 2020. Quindi io comunque ho deciso di continuare a partecipare perché volevo, pensavo che comunque la mia storia potesse essere arrivata ad altri ragazzi, con la mia testimonianza appunto. Quindi con questa mia scelta ho ricevuto, parlando quindi della mia perdita, ho ricevuto molta vicinanza, amore e affetto. Quindi per me sei creata come una famiglia tra noi sibling appunto. E qual è il messaggio, insomma il consiglio che ti senti di dare ai ragazzi che stanno provando la tua stessa esperienza? Allora, un consiglio è sicuramente quello di essere forti, forti non solo a livello fisico, ma a livello, come abbiamo detto sempre nei gruppi esperienzali, ad un livello del sapere riconoscere le proprie paure, le proprie debolezze e affrontarle appunto. Perché sì, bisogna essere forti, ma appunto bisogna avere la stessa forza nel trovare il proprio tallone d'Achille. Ecco, quindi questo è qui, essere uniti con i propri genitori, uniti in casa. Io l'ho visto appunto in prima persona con i miei genitori, grazie a loro comunque e alla loro dedizione e al loro affetto nel gestire mio fratello. Comunque ci aiutavamo tra di noi, perché le cose fatte insieme possono risultare meno pesanti, anche se comunque sono molto complesse, come quelle delle malattie rare.